Maciste fa parte della linea zolla verde di Bottos, miscuglio formato dall'80% di festucro di nacea, 10% di dolietto e 10% di pova protensis, ha un colore verde brillante e una tessitura di foglia medio-larga. Queste sue caratteristiche lo rendono veramente polifunzionale nelle più svariate situazioni pedoclimatiche. Il periodo di semine va da marzo a ottobre inoltrato proprio per le caratteristiche di composizione. Questo gli dà modo di poter essere anche di velocissimo insediamento e avere, grazie alle cultivar presenti nel miscuglio, un spiccato diciamo plus verso anche le zone in mezz'ombra, anche con un 50% in meno di quello che è la luce diretta. Come dosaggio di semina 40-50 grammi al metro quadro, ovviamente in quelle zone un po' più difficili è bene aumentare il dosaggio. Come altezza di taglio mi raccomando mantenere sempre i 6 centimetri perlomeno e come a livello di nutrizione almeno le quattro concimazioni durante l'anno. è bene integrare soprattutto nei mesi estivi, quindi nei mesi più critici, con almeno un paio di biostimolazioni o comunque di prodotti liquidi che possono sostenere la pianta e il tappeto erboso nelle fasi più critiche. Il packaging presente sul mercato a vostra disposizione sono la scatolina da 1 kg, il sacco da 5 kg e il sacco professionale da 20 kg. Per ogni ulteriore informazione vi rimando alla scheda tecnica che troverete all'interno del sito. Grazie Grazie